Prima di quattro anni, per quanto riguarda? C'è un po' maggiore Quanto c'è un girato la giallo? Minch Il giallo è andato Giallo Per due lo volevo dare, ma per cento Il cappello di Dio ci vuole andato Non c'è un po' maggiore Non c'è un po' maggiore Questa non è male, è una bella 50 euro O questa non è male Se non c'è male Non c'è male Può salire, che discorso Posso? 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 Io non posso Che bello Hai visto? 10 euro 10 euro 5 10 o 5 14 15 50 E' visto? Fortuna portata Vai 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 Sii, compa Dai minchia, dori C'è cazzo tanto Si è vedere da lo stesso Si è vedere da lo stesso Ma hai fatto Pure 50 Pure 50 Pure 1 euro Pure 3 Può vedere Da lo stesso Da lo stesso Ma stavo Non c'è Non c'è chiama 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 Giallo Scalter Antone 1 euro Hai visto? Scarico 500 200 300 300 300 Si, no, a chiama 1 euro a chiama A 50 può essere che lo scalto 50 Si, può essere E c'è un altro colpo Altre due colpo 2,30 Se rompe il muro Arriva Se rompe il muro Ah no Ma c'è n'è un altro No, sono Si, c'è n'è un altro E io porto fortuna Non so Si è sfondato Non hai visto? 50 O 100 Bonus O vuoi che porto fortuna? Vai, primo Vai Cazzo ne fu Cavallo Questo 50 c'è su Se non ho sbaglio No, 3 lì Il trattore è buono Il trattore è buono Era messo dopo il 50 Scalto Oh Bastardo Non ci ho messo Ora l'ultimo giro lo fa Vai Antonio Offri la birra Non c'è Antonio 50.000 euro Non c'è Non c'è Ah va dai Allora Guarda io Guarda io E' un po' E' un po' E' un po' 50 euro 100 Non importa Vai Non importa 50 50 100 30 Hai visto No Aspetta Il nostro L'altro Non ha un euro, ma comunque è 25, visto che è arrivato a 5 giocati La cosa migliore Ragazzi, scarico di Antonio No, mette a cieli Dai Antonio, giocate pazze Giocate pazze Giocate pazze Antonio, ancora può scaricare 50 euro scaricato Non puoi saperlo, a me mi hai scattato di scaricare più volte Può dare pure di più Più che hai scaricato, 50 euro non è che scaricare 100 Non è un euro rischioso No, non iniziate, fanno giocare un po' È rischioso un euro, però vabbè, giocate pazze A 25 A 25, fanno giocare Ora lei vede che deve fare A 25, fanno giocare Poi se dà 30 euro scaricare pazze Poi se dà 30 euro, più di più ne basze Il video l'abbiamo Il capello? Ma ancora può essere pedaveri Questo è poco comunque, a 25 Oh, 10 minchia Ma che hai sbagliato? Portai il piede Portai il piede Portai con me A 50 Metti al 50 Alla qua lo puoi mettere a 50 A 50 A 50 E' un brocci A 50 A 50 A 50 A 50 Ora la metto Può essere? No, no, non la metto Oh, l'ha messo, però scarsa Ma l'ha messo Ma è Ma sta Questa era te la prendiamo M***** Che cavallo Il povere cavallo Ma come si mangierà? Che ci sono i 120 euro Questi sono i 100 euro di ancora Ma non ti ho pensato che doveva Scaricò, compagno Non sono quelli che è scaricato Quando viene innamorato dai tuoi, con questo che mi ha 40 mezza, e questo è un guancia. Non c'è arrivato. Meno male. Vabbè, lascia. Piegli una bella, forse si è arrivata. No, vabbè, lascia. 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 Lascia bass sul tempo, anche 저� subscripti. Che 맞아요! Certo sì'veichco! C professionally. Due sì. La verra è ma anche una faccia con tu? E' zingata. Vabbè, come la verra da un worms- Onese ma non torniamo il resto. In realtà il mio明iettro è skalato. Vabbè, buona quantità. E' il mister! Il mister è pure buono! Esatto! Vai! L'ultimo! A 20 minuti! Vai! Stop, mister!